8 marzo, auguri a tutte le donne, sono a Prato sotto l'acqua, sotto un olivo che è sotto l'acqua e sono venuto a vedere la mostra di Sofia Ancillotti che è una mia amica, artista, curatrice dei venti che è esposto all'Oralab in realtà io sono qui per rubare un po' di idee, visto che sono 4-5 artisti giovani spero di trovare qualche spunto per i miei prossimi lavori grazie 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 chissà vai via? no, ti volevo dire se andavamo via tutti insieme a mangiare qualcosa chi? con te e la Cristina e Andrea tutti insieme ciao 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 la nostra artista va via. Ed eccola qua, Sofia Ancillotti. Grazie a tutti. Oh, ma quando hai finito di chattare, allora questa mostra com'è andata? Eh, questa mostra mi fa molto bene perché ci sono andata alle persone che amo e a cui voglio tanto bene e per cui condivido il mio percorso. Sì, ma senti, ma essere un giovane artista che io non me lo ricordo più, come ci si sente? Essere giovane impiene ancora l'entusiasmo. Ma alti e bassi in realtà, perché sono momenti in cui stai fai l'entusiasmo e altri momenti in cui fai schifo. Ma allora non cambia nulla, anche crescendo, ma tranquillo, tutto a posto. Grazie Sofia, ciao. Grazie. 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 Grazie.